Lavorioso, attendista. Anzi immobile. Su pensioni, concorrenza, giustizia il presidente del Consiglio s'è messo a schivare le manovre dei partiti e rimandare tutto ciò che è divisivo. Un temporeggiare freddo, in vista del Quirinale. In un momento tutto si è afflosciato. Siamo tornati noiosi, impotenti, normali. Un'Italia che non tira in porta, senza diritti, rivolta all'indietro. Che rinvia, di necessità, costretta a giocarsi il futuro nella roulette dei play-off, a marzo, quindi non adesso, dopo. Vale per il calcio. Quattro mesi esatti dal Wembley a Windsor Park, dalla sbornia degli europei al punto interrogativo sui mondiali. Vale, iperbole, per Mario Draghi e per il suo governare. Il futuro sembrava formidabile, l'epilogo potrebbe esserlo meno. Dal trionfo sulla vertigine del PNRR al rischio del Capitombolo a cavallo del Quirinale, un vento che sta cambiando, come diceva Virginia Raggi un tempo. Sembrava di essere all'inizio di un nuovo inizio, ora non siamo più sicuri del tipo di inizio, sarà mica l'inizio di una fine, è l'orrendo dubbio che si insinua in controluce. È bastata una manciata di giorni, a dare il segno di un cambio di fase. Dalle foto coi grandi del G20 intenti a lanciare monetine nella fontana di Trevi, all'esistenziale alternativa dello spritz con l'Aperol oppure con il Campari, che ha costretto Draghi a desporsi, Campari, pur di schivare, da presidente del Consiglio, le dichiarazioni del barista sotto casa, tal Antonino Proietti, che lo sapeva già proiettato al Colle. Uno sport romanissimo, perché va detto che né a Berlino né a città della Pieve un barista si sognerebbe mai di aprire blocchi sui suoi clienti importanti, sono cose che accadono giusto nella capitale, dove tutto può esistere, anche un posto che si chiami Pagarona, e dove può essere la norma inciampare in presidenti, ministri, principi del foro, pezzi grossi in genere della sorrentiniana grande bellezza.